carissimi pace del signore a tutti voi e buona giornata mercoledì 9 febbraio 7 del mattino insieme per leggere e meditare la parola del signore vangelo di giovanni capitolo 6 versi da 36 fino a 47 versi molto belli come tutta la parola di dio nei quali gesù continua il suo discorso riguardo all'essere lui il pane della vita dichiara delle verità molto importanti non ci possiamo soffermare su tutte quante ne guarderemo alcune innanzitutto la bellissima verità espressa nel verso 37 nella seconda parte colui che viene a me non lo caccerò fuori ed è bellissimo questo perché ci ricorda come il signore sia accogliente e questo suo essere accogliente non dipende da quello che noi siamo ma da quello che lui è cioè amore perché in lui si manifesta l'amore di dio e l'amore è innanzitutto accogliente non è qualcosa l'amore quello vero quello con la maiuscola quello che nella bibbia viene manifestato in cristo gesù qualcosa che si dimostra verso chi lo merita perché altrimenti non sarebbe più amore l'amore di dio è qualcosa che viene mostrato nei confronti dei peccatori ma anche dei religiosi dei pubblicani ma anche dei farisei è un amore che lo portò a dare perdono a tutti coloro che chiesero perdono a dare guarigione a quanti si accostarono a lui per riceverla al di là della classe sociale al di là di quello che poteva essere la tradizione umana non dimentichiamo infatti che gesù accolse la donna samaritana che teoricamente era un avversario suo una nemica sua in quanto samaritana e tra i giudei samaritani non c'erano i buoni rapporti non dimentichiamo che il signore dinanzi alla costanza e insistenza della preghiera della donna sirofenicia beh egli non poté fare a meno appunto di guarire suo figlio nonostante essa non appartenesse al popolo di dio non dimentichiamo che il centurione viene lodato per la sua fede vede la risposta che viene da parte del signore in favore del suo servo nonostante non fosse un giudeo sì il signore accoglie tutti tutti coloro che si accostano a lui con un cuore sincero con un cuore puro col desiderio di poterlo conoscere e di poterlo incontrare ed è questo è bello ed è qualcosa che ci incoraggia credo questa mattina ad andare a lui sapendo che egli appunto non ci rigetterà non ci allontanerà ma anzi ancora una volta ci mostrerà delle braccia aperte in modo da poter trovare in lui il riparo il riposo o le risposte di cui abbiamo bisogno per la nostra vita gesù continua il suo discorso e dichiara che gli è venuto non per fare la sua volontà ma la volontà di colui che lo aveva mandato e anche in questo c'è un insegnamento per noi noi spesso vorremmo imporre la nostra volontà ma dio ci chiama invece a fare la sua volontà e questo è possibile solo nel momento in cui noi decidiamo di camminare non secondo i principi di questo mondo non secondo gli istinti della nostra natura peccaminosa chiamata da paolo anche carne ma quando diciamo decidiamo di camminare per le vie dello spirito sotto l'impulso dello spirito santo stesso è una scelta di campo che ognuno di noi deve fare e dinanzi al signore credo che non possiamo fare a meno di dire aiutami a camminare per lo spirito visto che tu mi hai accolto e hai mandato tuo figlio affinché fosse possibile per me entrare nella tua presenza ora aiutami a camminare per la via dell'ubbidienza alla tua parola e alla tua volontà anche perché e questo spero che lo abbiamo ben compreso la volontà di dio è la cosa migliore per la nostra vita anche quando questo implica passare per la sofferenza e per la prova noi sappiamo che la volontà di dio è la cosa migliore per la nostra vita e ci aiuti il signore a non dimenticare questo ma anzi a tenerlo ben presente davanti a noi in modo da non lasciarci prendere dallo sconforto quando ci troviamo ad attraversare il fuoco o le grandi acque le quali sembrano poterci divorare e sommergere no dio ha un piano glorioso che non è il benessere su questa terra ma il benessere eterno quello nel cielo non è un benessere effimero ma è qualcosa che durerà per tutta l'eternità perciò coraggio coraggio perché se saremo ubbidienti anche noi vedremo la gloria di dio gesù sempre in questo verso oltre a presentarsi come colui che non caccia nessuno come colui che è venuto per fare la volontà del padre suo si ripresenta ancora una volta come il pane della vita e ricorda che egli è venuto affinché chi crede in lui abbia vita eterna e venga risuscitato nell'ultimo giorno e gesù in questo è il primo genito nel senso che è stato il primo a risuscitare dai morti ora non confondiamo il ritorno alla vita di lazzaro della figlia di jairo e di altre persone di cui parliamo nella bibbia con la resurrezione dell'ultimo giorno lazzaro è morto anche se è tornato in vita per mezzo dell'intervento di cristo la figlia di jairo è morta la resurrezione di cui parla il signore gesù è qualcosa di diverso è una resurrezione che non sarà seguita da un'altra morte ma sarà vita eterna e questa resurrezione riguarderà ogni uomo solo che ci sarà una resurrezione in vita per i credenti una resurrezione in morte la condanna eterna per gli increduli e per quelli che sono in cristo abbiamo letto c'è questa vita eterna che è promessa allora voglio dire a quanti stiamo camminando nelle vie della grazia e magari stiamo affrontando i sentieri del dolore dell'afflizione e della sofferenza passerà passerà presto verrà il giorno in cui noi risorgeremo oggi per paragonare un po i tre giorni gli ultimi tre giorni di gesù è venerdì è il giorno in cui magari siamo o anche noi nella condizione di dover passare per delle situazioni dolorose ma presto arriverà la domenica presto arriverà la resurrezione e poi vorremmo col signore per tutta l'eternità perciò ringraziamo che dio è venuto ringraziamo dio padre per gesù che è venuto su questa terra ad accoglierci ringraziamo il signore per come egli ci ha rivelato la sua volontà chiediamo forza per praticarle non scoraggiamoci perché presto verrà il giorno in cui tutti incontreremo il signore nell'aria tutti i credenti intendo e vivremo con lui per l'eternità con un nuovo corpo e cammineremo per le strade della gerusalemme celeste che dio ci accompagni con la sua forza ancora oggi pace del signore a tutti quanti grazie a tutti grazie a tutti